Andiamo in diretta dalla Clarea, sentiamo cosa sta succedendo Sì andiamo con Luca, ciao Luca come va? Guarda io sono appena arrivato ora, c'è un dispiegamento di poliziotti in assoluto che sono mosso attorno alla baita, una ventina di persone fermate e io mi sono arrampicato sul traliccio, adesso stanno salendo per venirmi a prendere io sono sul traliccio proprio di fronte alla baita e mi sto arrampicando, sto organizzando per salire con le corde e quindi cerchiamo di fargliela trovare lungo in questa maniera qua io sono qua, sono pronto e disponibile ad appendermi ai fili della corrente se non la smettete, ok? Io sono qua aggrappato, sono uscito a svicolare da decisi poliziotti che mi guardavano attoniti ce l'ho fatta a fargliela sotto il naso un'altra volta ecco vediamo come si sviluppa sono qua a dieci metri d'altezza, all'altezza dei cavi elettrici scusami vedo sotto gli rocciatori che si stanno preparando con le corde ecco vedo sotto gli rocciatori che si stanno preparando con le corde